Sei di fianco a Pippone? Ciao ragazzi, benvenuti qui con Pippone e Hunter E siamo qui in questo video glitchato di Hunger Games Cazzo con i capelli rossi Smettila di provarci con le redhead Vieni qua, dove sei? Iniziamo Eccolo! Bentornati con Hunter su un altro Hunger Games Oggi abbiamo intenzione... Basta libri Abbiamo intenzione di vincere questo Hunger Games Ah, dimenticavo la tua epica intro, scusa Ma non vale! L'ho aperto... Mi sto riantrollando alla grande Sì che poi la cosa bella di questo server è che tu apri la cia Guarda, ho del pane Guarda, così si butta via il pane Vuoi dell'altro pane? Morire da solito, è come suicidare Ho anche delle mele, vieni qua Ehi! No, no, ma perché mi diamo le mie cose? Perché non vuoi dare... Non sei neanche un minimo generoso, vergognati Dove andiamo? Guarda, stanno andando tutti di là Andiamo... Ecco, ti seguo Andiamo a fare il nuovo corte con tutti gli altri Dai, mi piace stare in compagnia Però in questo caso Ho fame Mazzate i porchi Mazzate i porchi più Sì, però... E aspetto, delle bistecche Lasciamogli un po' di cibo Ok, andiamo Oddio, no, sono finito in una specchina Salva, mi proteggimi Ci sto provando Dove andiamo di là? Aspetta, è giunto il momento di abbassare il rendering No, dove sei? Ah, c'è una caverna Sei tu, sei tu! Oddio, oddio Tieni la mia arma Sono completamente disarmato ora Aspetta, mangi una mela Proteggimi, proteggimi O mio cavaliere Ti sto facendo torri inutili davanti Vai così, Hunter, che li stai distruggendo tutti Eh, minchia, oh, li ho arati, li ho arati Aspetta, voglio fare un attimo di serietà Basi, minchia, li ho uccisi tutti È troppo forte Grande, hai qualcosa per me? No, no Ma fai schifo Oh, la mia ascia, l'ho ritrovata Ho ritrovato la mia ascia Siiii Quanti cuori hai? Eh, tutti li ho uccisi qualche volta quasi tutti ok non so dai ma perché dobbiamo stare qua nella piena ora ma che poi tu sei intelligente lo sai che la terra non si rompe con l'asso cioè è come dire che io uccido le persone a colpi di palate perché tu hai forse una pala no però se vuoi te la tiro ci spostiamo? non mi piace questo posto sì in effetti è bello ho tanto di quel cibo voglio darlo tutto via alla fine mi trovo con tutto il cibo lascia che vado a prendere un po' di legna almeno ci facciamo la casa la facciamo la facciamo sui monti aspetta bimbo merda no 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 ti faccio una torre di protezione preso preso sì 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 headshot ma quanto sono pro agli hunger game tu fai proprio schifo invece ma va affatto vieni oh upgrade ragazzi troppi conseglie aspetta aspetta grazie devo dare al guerriero la parte la parte la parte di vittoria ho lasciato a vittoria perché la skin quanti siamo? oh una quindicina allora Hunter dove stai andando? conducimi dobbiamo andare a fare una casa scusate se no che senza audio cari in un hunger game se non fai una casa beh è ragione come dire survival andando a uscire io pianto il bambù allora la facciamo bella perché ovviamente scusa noi siamo dei bugger prepara la redstone perché? lol player da segnalare agli admin? sì the hunter 9913 ma sì se vedete il mio video segnalatelo questa è una persona altamente pericolosa ok hai abbastanza hai abbastanza materiali? sì voglio fare una casetta di leggi dai andiamo allora se vuoi ti vado anche a procurare un po' di canne almeno se qualche volta voglio editarti qualche smitha qualche fumatina così erano si può passare di più rendere non voglio più nebbia io nel mio schermo no no sì la nebbia la nebbia fa da beh il video rende bello se non ci fosse la nebbia che bello che bellezza ci sarebbe in video sarebbe inutile ehi un cavallo vieni qua che c'è il cavallo aspetta voglio il cavallo in casa sto portando il cavallo no Skyran ha ucciso qualcuno maledetto vedi l'intrappone scusa noi stiamo costruendo questa casa per come faccio entrare il cavallo scusa se non mi fai un ingresso per il cavallo aspetta prima di tutto devi addomesticarlo cioè meno che ti può vabbè addomesticarlo o no beh io l'ho catturato per ora allora aspetta sì ma come entro in casa scusa fare una porta è una cosa no no in minecraft no anche in minecraft le porte costano troppo aspetta sto arrivando ma scusa noi non abbiamo neanche il pavimento perché il pavimento è consapevole eeeh no ah intrappolato eh no cosa stai facendo al mio cavallo mi hai giunto almeno piace o almeno piovono mele non mi piace piovono bistecche piovono frecce no tieni prendi i frecce ti ho dato le frecce ottimo calmo 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 ce l'hai dell'acqua voglio piantare il bambù aspetta qua vicino a casa giusto guarda che bello sì aspetta che devo fare un pochino sta cazzo di casetta il bambù è essenziale per un attimo gameplay poi arrivano le persone vedono la casetta fatta male e poi ovviamente giocita eh se è fatta male è ovvio ok dobbiamo farla bella sennò che senso a giocare in langer oh siamo ancora in 5 wow dopo che ha catturato il cavallo sì allora intanto ci serve una sella per il cavallo perché beh certo vuoi un cavallo senza sella poi ci servono delle mucche perché almeno ci fanno l'accia ciao va caldo e fanno i sintoni noi ma siamo la mamma e il papà e usiamo il figlio e figlia per fare il cucciolo per poi fare uccidere di nuovo il papà e la mamma per poi fare il cucciolo che poi alla fine morirà perché deve fare il papà e la mamma dentro cosa stai dicendo mi servono altri due lenini così faccio una bella porta no 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 la porta no te lo ho detto ce l'hai una crafting table no siamo poveri faccio io allora da 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 don 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 achievement ragazzi achievement anche era un problema non ho più cibo l'ho dato tutto e sto morendo di fame ma ecco perché ho 30 costoletti mi sembrava strano cioè ho ammattato 40 ma ora torno a casa torno a casa posso pescare non ho la canna da pesca mi stai portando un po' di legno che poi si si tranquillo scusa sono andato là apposta per prenderla intanto però scusate come mica faccio la casa se no c'è un'altra faccio due stick ehi allora le mura le prendo l'altro cavallo ehi che c'è cavalli in casa oh c'è scusami il cavallo al suo posto per cagare per venire scusa è un aggiornamento bellissimo i cavalli johnny vieni con me johnny ho cavalli ora che i video coi cavalli fanno un sacco di visualizzazioni cosa credi no mi ha leccato mi ha leccato un po' mi sbagli ma qua è pieno di cavalli guarda questo cos'ha questo cavallo no aspetta povero cavallo aspetta forse è malato morirà muori cavallo malato cavallo armato no mi sa che non era malato ma qua è pieno di mucche a parte che non devo aspettare te per mangiare la 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 ok ci sei? faccio due porti faccio due porti si ti sono più sentati non sto morendo vai cavallino due porti no poverino mi segui mi segui dai ti lancio il bastone seguimi perché non segui il bastone? allora la casa lo fa ora possiamo ora possiamo vincere la partita stiamo arrivando vieni johnny vieni johnny ti porto da eva vediamo gli upgrade della casa come stai a cuori allora lì lì dentro c'è con ordine lui è più buono di te almeno tu mi stai facendo impazzire con 4 z vado a prendere l'enzi spesso tanto io sai cosa faccio? che sto parlando sempre capito hai fatto la porta grande oh due porte wow scaviamo il giardino sì sto scavando nel giardino ma no ma no il giardino è la parte più bella della casa cioè non ho neanche dovuto farlo cioè scusate ragazzi cosa ha di bello questo giardino? la parte più bella di tutta la casa ma che ti fa aspetta il giro ma quanto sono cretino ci servono i letti se no poi dormiamo ma madonna quanto sono stupido stai letto mi sei fuori di merda vedi qua io stai buono stai buono stai buono allora dovrei avere un po' di lama ok figuriamo con un bel facciamo facciamo la bandiera della yoga un bel lampadario di terra sì lampadario di terra vorrei mica lasciarmi solo tutta la notte siamo in tre oh è rimasto solo Jack mi scrivo no no ora mi spieghi Jack ti aspetto col mio cavallo vuoi? ok ci sono ci sono blu 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 ma mi hai chiuso fuori no 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 sono altamente incapace di gestire le porte ok ma perché hai scavato qua? sarebbe un epico trolling per chi entra per chi entra nel giardino è giunto il momento di scavare come stai con il cuore? sto bene no sto bene sto bene sono abbastanza vivo aspetta devo fare devo fare la cassa con ho fatto una specie di cammino fuori in giardino allora qua c'è il tivo e le varie cose per sopravvivere non c'è mai ok bene allora abbiamo il tivo tanto gli dico le couro di mano allora 169 70 e 226 179 70 aspetta mi serve la bustola oh ti puoi dire al tuo cavallo per favore di non salire sopra la chest che mi dà fastidia no veramente mi rompe i coglioni cavallo non devi salire sopra la chest cattivo cavallo cattivo acucia acucia non viene in merda non lui mi colpisce almeno lui mi abbraccia come fa buttiamo via guarda la bustola che chi ne farà oh nella fossa della vergogna buttiamo via tutto non si può affrontare un player con gli attrezzi meglio eh sì scusa è giunto il momento del del come faccio a entrare devi farmi un ponte se no non riesco a tornare a casa devi saltare guarda le fail jump sì è incredibile non so come sono riuscito a farlo io già ti avevo visto fuori caduto morto distrutto tornò tornò sul mio aspetta ma non sei tu è lo scheletro vuole venire anche lo scheletro con noi falle entrare falle entrare jimmy vieni vieni fai entrare scusa vogliamo fai allora vieni dentro hai capito allora no fermo oh non te l'hanno insegnato che non si scudara con le prezze alle persone allora questo qua è l'interno della questo è vero mi dispiace hunter l'hai dovuto uccidere si strapieno di prezze ma che figlio ha fatto quel tizio vieni ti vedo le coordinate sì una casa no no cos'è cos'è distrutto mi ha annientato mi ha distrutto ma io sto 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 appogando nel terreno soffo che che di non ho mai perso neanche game soffocando in un muro ma perché sempre come dice non so si è sempre la prima volta ragazzi per questo video è tutto spero che la casa vi sia piaciuta sì sì ma poi tranquilli ragazzi questa qua è solo l'inizio poi arriveremo al punto in cui noi faremo le bill perché oggi non ci siamo neanche sforzati scusate se mangio patatini per questo video è tutto al prossimo episodio di epic building bye bye melone random melone random melone random melone random melone random mi l'ami 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 Grazie a tutti.